La prima domenica di agosto ha tanti appuntamenti in agenda. In diversi paesi del Molise si svolgono eventi che spaziano dalla musica alla tradizione, dalla cultura all'enogastronomia. Riflettori puntati sulla finalissima di Ripa in Lirica, terzo concorso internazionale di canto lirico Piero Capuccilli a Ripa Bottoni, dove dal 3 agosto ci sono state le audizioni dei partecipanti provenienti da diverse zone del mondo. A Larino, spazio dal mattino alla rassegna delle carresi, una sintesi della cultura e della tradizione legata a queste manifestazioni. Una mattinata dedicata al raduno dei carri in piazza Duomo, mentre nel pomeriggio laboratori artistici per mostrare la lavorazione dei fiori di carta e la lavorazione artistica del grano. Dalle 18 la sfilata dei carri trainati da buoi, in serata degustazione di Di Vitallo Marchigiano allo spiedo e musica con Figli di Puglia, dalla Tarantella del Gargano alla Pizzica del Salento. A Riccia, serata finale per il Folk Festival, piatti tipici riccesi e musica di qualità con La Maschera, formazione dell'area napoletana che spazia dai suoni del Mediterraneo alla contaminazione. Tra i componenti Roberto Colella, al suo attivo tante collaborazioni, dal cast di Passione a quelle con il compianto Franco del Prete. A Montenero di Bisaccia prosegue invece la notte nel Borgo Antico, iniziativa promossa dalla Prologo Frentana con serate dedicate all'arte, alla musica, alla fotografia, ai sapori e alle tradizioni. Questa edizione prende il nome di Futura, dall'idea di prospettare a visitatori le ricchezze storiche, artistiche e enogastronomiche del luogo, attraverso le nuove tecnologie e i linguaggi moderni, prevista un'ampia area street food. A Pietrabbondante la 47esima stagione teatrale del teatro a mille metri d'altezza, con tre spettacoli, di cui il primo proprio in questa domenica, alle 19, con Ifigenia in Auride di Euripide, per la regia di Alessandro Machia nella versione italiana di Fabrizio Sinisi.